Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Il desiderio di Kate finalmente si realizza, buone notizie per la sua famiglia. Viene mostrato il pancione durante il giubileo. Ecco la foto. Middleton incinta.E' ormai notizia nota che Kate Middleton abbia il desiderio di allargare la famiglia e di regalare un altro fratellino ai tre figli, George, Charlotte e Louise. William però non sarebbe della stessa idea e cerca sempre di sviare la moglie durante le uscite pubbliche. Negli ultimi giorni la famiglia reale ha partecipato al giubileo di platino della regina e c'è stata un'importante notizia che è venuta fuori. I duchi di Cambridge erano lì con i loro tre figli per festeggiare un momento molto importante della vita della sovrana. Durante i giorni di festeggiamenti la famiglia reale ha anche festeggiato il compleanno della piccola Lilibet, secondo genita di Harry e Meghan, che ha compiuto un anno. Infatti hanno festeggiato a Cardiff il compleanno della piccola. Presenti ai festeggiamenti della piccola per porta il soprannome della sovrana come nome anche la zia Kate e lo zio William con i cuginetti George e Charlotte, mentre Louise è rimasto a casa sia per il suo comportamento molto vivace che ha tenuto sul balcone di Buckingham Palace sia per la sintonia che ha con la bis e nonna. William e Kate. Middleton di nuovo incinta, il pancione svelato al giubileo. A mostrare il pancione durante il giubileo di platino è stata la sorella di Kate Middleton, Pippa. In arrivo il terzo figlio per la sorella della duchessa che l'ha svelato proprio durante il grande concerto per i festeggiamenti. Già mamma di altri due bambini Arthur e Grace ha deciso di allargare ancora la famiglia. Con un sorriso smagliante e un abito leggero verde ha mostrato a tutti le sue forme che parlano chiaro. Perfetta come sempre con un trucco semplice e delicato, styling semplice e pochi gioielli che hanno completato il suo look. Arriva per i tre eredi della corona d'Inghilterra un altro cuginetto. Pippa Middleton in dolce attesa, mostra il pancione al giubileo di platino. Grande gioia anche per Kate che adora passare del tempo con i suoi nipoti, e si dispice molto per non vedere spesso invece i figli di Meghan e Harry, fratello di William. Ma a farle fare la zia ci pensa la sorella Pippa, e chissà se forse anche il fratello, James, che è convolato a nozze lo scorso anno. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao